Siamo nella prima giornata di gare a Berlino, al velodolo e sono in corso le qualifiche della velocità squadra e femminili. Adesso ci sono le russe, Dariash Meleva, Anastasia Boinova, candidati a fare un tempone, come sempre. E sono prime come da pieno massimo. Siamo qui con Tiziano, che abbiamo già visto ieri, che si documenta sui documenti ufficiali dell'USA. Oggi è arrivato anche Fabio, il nostro amico che ci ha raggiunti oggi in pavido e siamo nel pieno nel cuore delle gare. Adesso toccherà agli uomini della velocità squadra, poi dopo lo scratch, il seguimento e tanto altro ancora. Ci aggiorniamo più tardi, ciao a tutti!